Stiamo ancora ricoverando almeno il 75% di persone che non sono vaccinate. Però qualcuno mi dice, ma perché dici sempre queste robe? Perché se funziona così, la matematica non è un'opinione, dovrei prendere i numeri e ridurli del 75% o no? A casa mia funziona così. Cioè vuol dire che se ho 244 ricoverati e vuoto per pieno, almeno il 70% non sono vaccinati, vuol dire che i 2,44, 7,7,14 e il resto mancia, vuol dire che almeno 160 persone potevano non essere in ospedale se si vaccinavano. A conti fatti il Covid morde ancora. In Veneto la campagna vaccinale continua, sono più di 19.000 le dosi fatte nelle ultime 24 ore e per i giovani dai 12 ai 15 anni, così come per gli over 60, non c'è bisogno di prenotazione. Uno adesso che mi sente parlare ha deciso di vaccinarsi, un ragazzo che dai 12 ai 25 anni o una signora sopra i 60 anni può tranquillamente prendere, finisce di seguire la conferenza stampa, prende un'auto, si fa portare, va a vaccinarsi, non sarà che chieda nulla a nessuno. Penso che più di così noi non possiamo fare. La vaccinazione è volontaria, uno in scienza e coscienza decide se farsela o no, si sappia che da un lato la vaccinazione è una tutela personale, lo vediamo nei ricoveri, dall'altro però è anche una tutela, è un lavoro di comunità. Piaccia o non piaccia, a me non è che piace farmi il vaccino, però devo prendere atto che il vaccino sta funzionando in questa fase. Ma il Covid è un'epidemia globale e le esperienze maturate nel mondo possono essere utili anche in casa nostra. La vicenda israeliana, per esempio, per Zaia, è lungimirante. La vicenda israeliana è lungimirante per molti aspetti. Vabbè, da un lato è vero che loro hanno eliminato tutti i dispositivi di protezione in primavera, diciamo, celebrando la festa della liberazione. Insomma, tutti noi abbiamo detto che Israele ha vaccinato, ha vaccinato molto prima di tutto il mondo e quindi è libera. Non l'aver usato dispositivi di protezione li ha riportati un po' nel baratro. Dall'altro, però, in Israele in questo momento si decide di vaccinare tutti gli over 60 con la terza dose. Io non ho preparazione scientifica per dire se è necessario o no, ma non mi vorrei ritrovare con le case di riposo con tutti gli over 60 a ottobre-novembre e che qualcuno mi venga a dire che è finita la scorta di anticorpi. Quindi, se qualcuno sta lavorando su questo, batta un colpo. Non è la promozione della terza dose, è la promozione di una tutela rispetto ai nostri anziani.